Buona giornata amici da Massimo Foghetti e ben ritrovati alla rassegna stampa di Fano TV dopo due giorni di assenza per le festività pasquali, il giorno di Pasqua i giornalisti non hanno lavorato, ieri invece sì e questa mattina i giornali sono tornati puntualmente in edicola, quindi procediamo col nostro sistema abituale, quello a partire dal Santo del Giorno dove vediamo che oggi si festeggia Sant'Emma di Sassonia, eccola nella grafica Sant'Emma di Sassonia, Emma è un nome germanico imparentato anche con Irma, Irma però non ha una santa propria, Emma visse attorno all'anno 1000 in Germania, sorella di San Megginverco, sposò anche il conte Luggero che morì dopo pochi anni dal matrimonio, Emma rimasta vedova in giovane età non si risposò più, si dedicò soprattutto alla carità per i poveri, fondò istituzioni benefiche e in questo impiegò tutto il suo sostanzioso patrimonio fino a rimanere in povertà, quindi una vita dedicata in modo particolare all'aiuto agli altri. Ebbene con questo vediamo poi le previsioni del tempo e vediamo come oggi il sole, lo vediamo nella grafica, ecco il sole appare in tutto il territorio provinciale, i cieli oggi sono in prevalenza sereni o poco nuvalosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, i venti saranno al mattino moderati da sud-est, al pomeriggio tesi invece da est-nord-est, il clima continua a rimanere piuttosto fresco, non dico freddo, le temperature uscilleranno dai 7 ai 16 gradi. Ed ora vediamo la rassegna stampa a partire dal Corriere Adriatico questa mattina, i giornali in realtà sono pieni di notizie che riguardano come i nostri cittadini hanno passato la Pasqua con scampagnate, con visite, con escursioni fuori posta. E proprio questo argomento evidenzia il Corriere Adriatico questa mattina, parlando come diversi monumenti, diverse fonti di attrazione siano chiuse nonostante il giorno molto molto proficuo per quanto riguarda le visite turistiche. Visita unica e area archeologica chiusa, occorre una diversa organizzazione. Non è possibile che i turisti attratti dalle iniziative di promozione, dalle guide turistiche che evidenziano le attrattive di una città, poi si tromini davanti ad un cancello chiuso oppure occorre una prenotazione, occorre cercare il numero telefonico, poi telefonare, prendere l'appuntamento, insomma un sistema macchinoso che proprio nei giorni di maggiore attrazione turistica, come le vacanze pasquali, poi quelle del 25 aprile e quindi ancora quelle del primo maggio, ci si trovi di fronte a questa organizzazione così complessa. Ne parla anche l'assessore, l'ex assessore alla cultura Stefano Marchegiani che evidenzia di semplificare tutto questo sistema. E poi a fondo pagina vediamo un articolo che riguarda la convocazione della Commissione a Fano della Commissione Garanzia e Controllo, lo ha fatto il Presidente della Commissione Luigi Scopelliti, si parlerà di Carnevale. La Commissione vuole sapere qual è il futuro del Carnevale, quali sono le iniziative e soprattutto anche qual è il bilancio dell'ente rispetto a questi due anni di pandemia, quando obbligatoriamente le manifestazioni si sono dovute ridurre e organizzare in modo molto molto spartano, molto molto ristretto. Un nuovo vallato, un nuovo vallato sintetico. Si parla del campo sportivo del vallato, quello che è tra il quartiere e via Paperia. Il del Curto si rifarà il Lucche. Il Comune spenderà circa mezzo milione di euro, invece è ancora in attesa l'intervento nel campo dei militari lungo viale Piceno. Resta l'unico campo da calcio a 11 in terreno, in fondo sintetico quello del vallato. In compenso però avrà un nuovo investimento e verranno fatte nuove iniziative, nuove opere. Si tratta appunto del campo che è stato intitolato a Vittorino del Curto, lo storico cassiere dell'ente canevalesca, ma anche lo storico dirigente di una società sportiva del XI. Mi sembra di ricordare, infatti il campo è dedicato anche a XI Delfino. Insomma, Vittorino del Curto è stato un uomo che ha dato molto alla città di Fano. Rimane invece un impegno di massima quello di munire di erba artificiale anche il campo supplementare del Montesi di Sant'Orso, attualmente in terra. Avrebbero infine dovuto essere giunti al capolinea ormai da un pezzo i lavori per la realizzazione del campo dei militari, che è un punto di riferimento importante per la squadra giovanile dell'Alma Juventus Fano. L'opera, che in realtà era stata concepita già nel 2016, avrebbe dovuto essere consegnata un anno fa. Invece ancora non è possibile fissare una data certa per la conclusione dei lavori. E restando sempre in tema sportivo, vediamo come Fabrizio Tito rimane presidente ancora per un'altra tornata del Panathlon Club di Fano. In questi giorni, infatti, la conferma alla guida del Panathlon Club è stata appunto formalizzata dopo che Tito ha retto il club per i due anni precedenti. Il nuovo direttivo è composto da Marco Bernardo, Giorgio Brunacci, Maria Carla Fabri, Evelina Langella, Francesco Savelli e Luigi Marfori. Luigi Marfori, una figura classica e veramente incomiabile dello sport cittadino. Erano i tempi d'oro del volley, quando la squadra femminile del volley fanese aveva raggiunto le massime classifiche. Passiamo ora nell'entroterra e vediamo come le giornate pasquali hanno favorito le gite fuori porta e soprattutto le gite che interessano un po' le scampagnate, diciamo così, più che le visite lontano, si sono limitate nei meravigliosi dintorni delle cittadine, dei centri marchigiani, che sono veramente bellissimi dal punto di vista ambientale. Dopo due anni di pandemia da Qualagna è tornata a trionfale la tradizione del picnic di Pasquetta, complice anche una bellissima giornata di sole nella giornata di ieri. Il lunedì dell'Angelo ha regalato il tutto esaurito in numerose località dell'entroterra che sono state gettonatissime per le destinazioni fuori porta. Insomma, qui vediamo anche delle fotografie di scampagnate. Ritorna anche l'abitudine del picnic all'aperto. E vediamo a Pergola, dove non si è raggiunti la vittoria per quanto riguarda il concorso del borgo più bello. Però essere raggiunti ottavi all'ottavo posto su venti è già un risultato molto molto apprezzabile. Pergola nella top ten dei borghi, orgogliosi, ottima la promozione, lo ha affermato la sindaca Guidarelli. È un onore essere arrivati a questo punto e avere partecipato a questo concorso. Tartufo, destinazione speciale grazie all'accordo con ACI e l'assessora Santelli, artefice della sinergia con la Lombardia. È un approccio multidisciplinare questo per promuovere bene e meglio la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Pregiato, che rimane un punto fisso nella programmazione degli eventi pergolesi, che è avvenuto proprio nei giorni scorsi quando c'è stata la Borsa Internazionale del Turismo, un po' fuori del bit di Milano, però insomma questo nuovo rapporto che è stato tessuto con l'ACI Milano ha tracciato una nuova rutta che fa delle terre del Tartufo, appunto di Pergola, una delle risorse più importanti del nostro territorio. E poi vediamo un episodio che è venuto a Gabicce Mare. Calci e pugni all'allenatore del figlio, il sindaco ora serve un segnale forte. C'è stato un papà che ha scavalcato la recensione durante una partita della Regis Cup a Gabicce, riservata ai dodicenni. Insomma si è scagliato contro l'arbitro, ha gli dato un cazzotto, l'ha steso per terra, ha fatto da matti perché non so che cosa abbia fatto, comunque si è sentito penalizzato nei confronti del figlio e quindi ha reagito in questo modo in consulto. Passiamo ora alla pagina di Pesaro dove purtroppo dobbiamo registrare i primi atti di vandalismo per quanto riguarda l'inizio della stagione balneare. Devastate le cabine in spiaggia, il ritorno della movida molesta. Ritorna la movida ma ritorna anche quella molesta purtroppo. La notte di Pasqua dei ragazzini ubriachi sul lungomare Sauro hanno sfondato a calci, porte e infissi. Il gestore dei bagni Iole 27 si è trovato nelle condizioni di sporgere denuncia e presentare un esposto al prefetto e al comune. Pasqua e Paschetta sono andate bene, anzi benissimo, dobbiamo dirlo, però dopo quello che è accaduto purtroppo si registra ancora il ritorno di questi atti inqualificabili che provocano dagni, dagni completamente gratuiti causati da ragazzi che non sanno come passare le giornate di vacanze e quindi vogliono uscire dalla noia in questo modo. E per quanto riguarda i fatti che stanno accadendo in questo settore dobbiamo registrare anche un effetto un po' strano, un caso un po' strano. Un ragazzo è rimasto accoltellato e non se ne è accorto. Dite voi, ma com'è possibile? Sì, è possibile perché questo ragazzo è stato avvicinato da alcuni coetani che gli hanno chiesto di cambiare una carta moneta da 20 euro. Poi a un certo punto si è ritrovato in discoteca a ballare con il sangue che gli fuoriusciva sotto un'ascella. Probabilmente non so se sentiva dolore o che cosa. Fatto sta che poi si è ricoverato in ospedale, però non ha saputo dire ai carabinieri, oppure non ha voluto dire ai carabinieri, questo non si sa, che cosa gli era successo. Giovane rimasto solo lievemente ferito. I carabinieri indagano su questa vicenda. E poi vediamo come il Comune ha organizzato ancora nuovi bonus per i centri estivi, un servizio importante per le famiglie che si troverebbero in difficoltà in estate, quando non ci sono più le scuole per curare, per educare i figli che devono stare per forza a casa. In questo caso il bonus costituisce un incentivo importante per consentire alle famiglie che non hanno poi grandi possibilità economiche di far frequentare i loro ragazzi nei centri estivi. Le domande potranno essere inviate da domani, tra un mese si conosceranno poi le graduatorie. E da una parte ci sono gli asili estivi con la lista dei plessi pubblicati di recente dall'amministrazione comunale, davanti alle quali però ci sono le critiche dell'opposizione, perché questi esili estivi sono carenti, sono pochi. Dall'altra ci sono le famiglie con i figli che frequentano scuole dell'infanzia, primari o medie, che stanno valutando appunto l'iscrizione dei propri figli al centro estivo subito dopo la chiusura delle scuole. È un problema che si sta valutando fin da ora, perché poi quando è il momento ci si corre il rischio di rimanere appunto fuori della porta. Il contributo può essere richiesto da famiglie con residenza nel comune di Pesaro con un ISEE 2022 non superiore a 20.000 euro. Un elutto è deceduto Aldo Tesei. Aldo Tesei è stato assessore alla sanità della regione Marche. Cordoglio anche a Pesaro per questa scomparsa. Aldo Tesei era molto conosciuto qualche anno fa e scomparso a 82 anni nella sua casa di Ancona, colto da un malore improvviso che lo ha colpito appunto a 82 anni di età. E quindi cordoglio anche a Pesaro. Porto da Dragare lo richiedono le attività biancani in pressing sulla regione riguardo ai tempi e alle modalità. Un problema questo che interessa diversi porti marchigiani, quindi anche quello di Pesaro ha bisogno di un intervento veloce. E poi in questo articolo si parla invece dell'arretramento della ferrovia, un argomento che campeggia molto spesso, da molti giorni, sui giornali. Arretramento ci sono altri nodi, hub, merci e stazione sopraelevata. Dopo agli stati generali un nuovo intervento del gruppo Zero con una serie di interrogativi. Sul corridoio adriatico, parzialmente da rinnovare i treni, potranno raggiungere una velocità massima di circa 200 km all'ora. E risulta evidente quindi come la linea adriatica risulterà interessata da un incremento esponenziale del traffico merci. E questo fa sì che il flusso potrebbe risultare dannoso, vuoi per le località molto inurbate, dove la ferrovia passa accanto alle case, soprattutto per quelle che hanno una vocazione turistica. Ecco perché il gruppo Zero pone l'accento su questo problema e dice di valutarlo bene per quanto riguarda poi gli effetti che procurerà questo progetto. Passiamo a Vallefoglia, dove vediamo la foto del sindaco Palmiro Ucchielli. Siamo alla città dei cantieri, afferma Ucchielli, però sulla guardia medica la regione tace. Il sindaco interviene su diversi argomenti, evidenzia come nel suo comune si stiano facendo molti lavori, ne elenco qualcuno. I lavori del parcheggio esterno e della piazza, il nuovo teatro, dove sono stati sati in cemento armato e stanno finendo i lavori per la metanizzazione delle zone collegate con Colbordolo e Montefabbri. E poi i lavori di camminamento per Piazza Europa e Morciola, completati anche da un percorso dedicato ai non vedenti e tante altre cose. Però insomma la regione dovrebbe fare anche questo ente, il suo compito non lo fa e la guardia medica rimane al palo. Da Gabice a Montelabate, cicloturistica internazionale, oltre 50 ciclisti provenienti da Germania e Stati Uniti hanno scoperto l'entroterra. Tappa montelabattese per la tradizionale settimana cicloturistica internazionale, organizzata come sempre da Letizia Vincenzetti per conto del gruppo albergatori multiservizi di Gabice. Ripetiamo come la bicicletta costituisce, anzi in questi ultimi tempi si evidenzia sempre più come un mezzo di attrazione turistica veramente efficace, perché sono tanti gli amatori della bicicletta che vogliono compiere escursioni turistiche nel nostro territorio. Veniamo ora al resto del Carlino, dove vediamo come i fanesi, ma anche i pesaresi e anche tutti coloro che abitano nelle località della provincia hanno trascorso le festività di Pasqua. Dentro o fuori Pasquetta fa il pieno. A Lago Solazzi si apparecchia per 150, una escursione quella sul Lago Solazzi, che hanno scoperto in molti fanesi. Ristoranti pieni, aree verdi e affollate. Comunque la gelida tramontana tiene lontani dal tuffo di primavera. C'è chi fa il tuffo il giorno di Capodanno e c'è chi vuole anticipare la stagione con un tuffo in mare, ma ancora l'acqua è piuttosto fredda. I luoghi più gettonati sono stati in riva al mare, le passeggiate, in punti riparati a causa appunto della brezza di Trammontana, il Lago Solazzi, ma anche la pineta di Ponte Metauro, che proprio oggi festeggia la sua festa. La festa di Ponte Metauro, la seconda festa di Pasqua, costituisce un appuntamento consolidato per tanti fanesi. Quando c'è bel tempo, come oggi, la pineta sarà affollata per consumare gli ultimi avanzi del pranzo di Pasqua. Ovviamente si fa così per dire, perché poi le cresce di Pasqua sono quelle che continuano a essere consumate ancora per molti giorni, poi salumi, formaggi e via dicendo. Comunque è importante focalizzare anche l'attenzione sulla chiesetta di Ponte Metauro, dove si festeggia la Madonna, che è stata incoronata durante la visita di Papa Giovanni Paolo II a Fano come regina dei pescatori. Ed è veramente una visita bellissima, anche dal punto di vista culturale, corredare la gita, così fuori porta, in realtà fuori porta siamo sempre a Fano, però con una visita religiosa e culturale nella chiesetta di Ponte Metauro. Così tramando la memoria del mare. È uno dei servizi di Silvano Clapis per quanto riguarda una curiosità che si fruga all'interno delle case di alcuni personaggi fanesi. In questo caso viene evidenziato Sauro Berluti. Sauro Berluti, 70 anni, attivissimo nel mondo dell'associazionismo, anima del Museo della Marineria Fanese. Sauro Berluti è stato, ora è in pensione, un professore del Volta, è stato consigliere comunale, e poi ha operato in diversi campi, soprattutto in questo momento nel ridosso. Nel ridosso quell'associazione fondata da Elio Milovats, che si è occupata soprattutto della conservazione delle tradizioni marinari. Sono tradizioni che Sauro Berluti conserva, evidenzia, organizza mostre e poi molte iniziative per la valorizzazione degli usi e costumi dei vecchi marinai, ma soprattutto per tramandarli nei confronti delle giovani generazioni. Vediamo poi anche come la sede del ridosso è stata trasformata in un bellissimo Museo del Mare. Passiamo anche a Ponte Sasso, dove i bagnini hanno qualcosa da rimostrare. Sì, infatti lì l'erosione ha sottratto parecchi metri di spiaggia, le scogliere ancora tardano a essere realizzate, l'acciclabile mangia spazio alla spiaggia, i bagnini alzano la voce. Si preannuncia quindi incandescente la stagione balneare a Ponte Sasso, con i bagnini pronti a protestare, stanchi perché l'amministrazione comunale, insomma, non ha così rispettato le promesse che aveva fatto, almeno per quanto riguarda i tempi. E poi a tutto ciò si aggiunge la previsione della realizzazione della pista ciclabile, che invece di essere fatto un pochino più a monte del limite della spiaggia, erode anche qualche cosa della renile. Il nuovo piano regolatore in giunta. Non ci sono i tempi. La offerma il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari. Secondo la Lega, serviranno almeno altri due anni per terminare la redazione del piano regolatore. Forse pensavano a una maxivariante e incalza appunto il partito di opposizione. Giriamo ancora la pagina e vediamo che a Marotta i turisti differenziano con l'eco card. Eccolo qua il titolo. Si parla di rifiuti. A Marotta e a Mondolfo sono state installate sette isole per non residenti. Quindi ci si attrezza per un maggior flusso turistico. In questo momento sono 2.500, ma in estate triplicheranno. Si sta ultimando quindi l'installazione di sette isole ecologiche intelligenti per consentire di differenziare i rifiuti anche ai non residenti possessori di seconde case o in affitto che non potranno rispettare il calendario settimanale del porta a porta. A Cerasa sono arrivati i ladri. A Cerasa sono arrivati i ladri e sono entrati in una casa e in poco più di mezz'ora hanno rubato preziosi gioielli tra cui un bellissimo anello d'oro e altri monili che sono stati appunto rubati. Il furto è venuto alle 16.15 di ieri. Alcuni 16.15 quando i proprietari appunto erano fuori casa per almeno per poco più di mezz'ora e quando sono entrati hanno trovato tutta la casa sotto sopra e appunto questi preziosi non c'erano più. Vediamo ancora un articolo che riguarda Urbino. Centro preso d'assalto dai turisti Pasqua e Pasquetta da ricordare. Ponte Pasquale ricco di turisti anche nella città ducale con forestieri e cittadini che non hanno potuto godere di numerosi intrattenimenti in centro con un tempo clemente. I portici ospitavano batanai tra le mura i mercatini della Proloco e poi tante altre attrazioni che Urbino ha preparato per accogliere i turisti nel giorno di Pasqua e di Pasquetta. Vediamo la pagina di Pesaro. dove e dove insomma c'è una polemica non molto edificante la vediamo qui. Che cosa è accaduto? È accaduto che durante una messa pasquale dunque non è questo l'articolo che volevo farvi vedere anzi l'articolo che volevo segnalarvi è questo eccolo qua è questo è accaduto che durante una messa pasquale a Colbordolo il sacerdote è apparso un po' infastidito dalle voci di alcune bambine che facevano chiasso in chiesa e in maniera piuttosto spiccia ha detto alle mamme di allontanarle ebbene a questo punto però le mamme non hanno recepito così benevolmente la reprimenda del sacerdote e sono usciti di chiesa e con loro buona parte anche dei fedeli che in quel momento stavano assistendo alla messa bimbe moleste noi parenti cacciati dalla chiesa dice il titolo fedeli protestano con il parroco di Colbordolo ma lui voleva solo che si allontanassero momentaneamente mi hanno aggredito ha dichiarato il sacerdote per loro erano solo due bimbe che gironzolavano per la chiesa per il parroco in quel momento diceva messa erano invece due presenze tanto chiassose da impedire di seguire l'omelia ebbene bisognerebbe anche un po' un'avvertenza da parte dei genitori di cercare di contemperare insomma chi magari quei bambini che magari alzano la voce però ci vuole anche tanta tanta tolleranza da parte dei sacerdoti che in questo momento sanno che i bambini hanno questo atteggiamento voglio soltanto segnalarvi un'ultima notizia per quanto riguarda per quanto riguarda Pesaro messa pasquale per Ucraina e a Loreto la vita è sacra nessuno la tocchi e a proposito di messe questa è stata una messa invece molto molto sentita molto molto partecipata anche Monsignor Coccia è intervenuto alla celebrazione per i profughi bene ora chiudiamo i giornali e vi auguro una buona giornata per quanto riguarda questi giornati susseguenti la Pasqua noi ci risentiamo domani alle ore 7 a risentirci e a i a a a Grazie a tutti.